eccoci da una di diretta allora Pina oggi un viaggio interessante un viaggio in india perché noi ce l'abbiamo più che altro nei luoghi esatto nei luoghi solo noi alla chiama l'estate street pritaji eccola eccola e avrà un evento appunto nella giornata di domani per far scoprire anche l'animo umano la meditazione e quello che ci racconta anche l'animo umano e soprattutto l'unione tra mente e corpo noi diamo il benvenuto Valentina ci darà una mano appunto con Francesca perdonami con appunto la traduzione per capire partiamo dai saluti si namaste parliamo appunto dell'evento no si puoi chiedergli appunto l'evento come sarà e l'idea di questo evento qui in italia per la prima volta ok so they would like to know you know how the idea of the event came to your mind in italy what is specific to italy and also you know how the flow of the event will be okay I travel all over the world I travel many countries the major countries of the world and the vision of ACOM in India it is a movement that is spread across hundred different countries of the world and the vision is awakening of humanity our vision is to have eighty thousand people who can live in an enlightened state and thereby create a face transition in human consciousness itself so that is our vision and that is the reason why I travel all over the world to ignite this passion for enlightenment and that is why we are here in Italy today ok dunque lei viaggia in tutto il mondo nelle nei paesi principali del mondo con la visione che è la visione di ACOM che è quella di creare 80.000 persone illuminate e che possono vivere in uno stato illuminato e con questa visione viaggiano appunto nel mondo in particolare in italia ecco parliamo appunto del luogo di ACOM no ci hai detto che è un luogo particolare noi la l'abbiamo credo definito anche erroneamente un tempio però è un centro dove si costruisce e si forma la mente no delle persone anche so about ACOM they want to know they originally they thought it was a temple but then I corrected them and they want to know what happens in ACOM if there's you know if this is a center where you know we forge human brain human mind or whatever ACOM is definitely a physical structure as well as a movement in consciousness it is both ACOM is built with a vision of enlightenment of humanity so when people do step into ACOM they have a powerful awakening experience where they're able to move beyond the mind and experience reality it is a glimpse of the true experience of life and that is ACOM dunque ACOM è non solo un luogo fisico ma anche un movimento un movimento che è direzionato all'illuminazione delle coscienze ed è costruito appositamente affinché le persone entrando nel luogo nel luogo di ACOM possano avere un'esperienza di illuminazione che è poi un assaggio dell'esperienza della vera vita Io vorrei affrontare un tema la ricerca della felicità che d'altronde poi accomuna un po' tutti gli esseri umani di tutte le epoche e di tutte le culture ma come si può raggiungere? So the next question is about the quest for happiness that is you know common to all human beings and the question is how can we attain happiness or achieve happiness So there is this strong pursuit for happiness believing that the external world can create happiness within But you can actually be happy if you are able to conquer your unhappiness that you're experiencing within You believe that you earn so much you become happy you believe that you have a family or you have somebody with whom you can spend your life together then you would become happy But if you learn to become happy from within then you would attract all these beautiful things into your life Si crede diciamo che tutto il mondo effettivamente è impegnato in questa ricerca della felicità però con l'idea che è il mondo esteriore che determina la tua felicità ad esempio guadagni questa cifra allora sei felice hai una famiglia fatta in un certo modo allora sei felice Ma in verità la felicità è una cosa che viene dal dentro quindi se tu sei in grado di definire la tua conquistare la tua felicità interiormente poi effettivamente questa si trasporta all'esterno quindi non è dall'esterno verso l'interno ma è dall'interno verso l'esterno You must learn to conquer your inner unhappiness that inner unhappiness which has become a white noise of everybody's life that has to be conquered in order to experience reality to delight in reality to be awake to be alive to reality Devi imparare a conquistare la tua infelicità interiore che è diventato come un rumore di fondo nella vita delle persone e quindi diciamo così facendo sostanzialmente ti apri alla vita alla vera vita sei presente nel momento e effettivamente puoi dire di essere vivo It's the union of mind and body It is a consciousness that can expand where rather than feeling a constricted or a small limited experience of life When I say being alive to life I say being alive to the present moment without the chatter of your mind Being alive to the present moment without being pushed to the past or the future Just to be present in the moment which a large part of humanity has lost It's hard work Si, più che un'unione tra corpo e mente è in verità una coscienza che si espande e ti permette di essere presente alla vita proprio essere vivo alla vita, ho usato questa espressione di essere vivo alla vita che vuol dire essere vivo alla vita, vuol dire essere presente nel momento senza il chiacchiericcio interiore che normalmente ci accompagna e senza che la nostra mente sia trasportata verso il futuro o verso il passato ma sei nel presente And did you say it is hard work? Yes I would say what it needs is the right path Ah ok Quindi più che essere un duro lavoro è trovare il giusto cammino We have seekers from across the world who experience that present moment Si, ci sono ricercatori di tutto il mondo che sono in grado di fare esperienza di questo momento presente E' chiaro che il passato, la tendenza dell'essere umano anche a rimuginare sul passato a volte crea davvero una difficoltà estrema ad andare avanti nella vita perché il passato tormenta e allora come si può imparare dal passato ma uscire da questo stato di tormento interiore? Yes, so it is true that you know all human beings have a tendency to cling on to the past So the question is how is it possible to learn from the past without you know being stuck into the past See, there is a negative bias in the human brain and that is the part of the survival instinct We had to learn from our mistakes very very quickly so that the species can survive Per la sopravvivenza della specie noi abbiamo dovuto, nei secoli, imparare molto velocemente la sopravvivenza giusto appunto, quindi imparare dal passato, dall'esperienza passata e questo costituisce una deriva per tutti, per tutti gli esseri umani Nature is not bothered about the evolution part Perché alla natura effettivamente non importa dell'evoluzione in sé That is where a path, the right wisdom, the right meditation comes into place Where you do not obsess about your past experience Past experience can be a bit of information But you do not need to go over it again and again and again If you look at human population A large part of them are living either in the past or in the future Obsessing about what would happen in future to them Or obsessing about what has happened to them in the past Thereby not actually living to experience a smile of a loved one The joy of having a coffee or delighting a meal together All that is lost and that is the sad part of humanity La parte triste dell'umanità è proprio questa di non sapere essere presente Al momento presente, giusto appunto Perché tutti quanti vivono nel futuro Ossessionati dal futuro Dio che cosa succederà Oppure ossessionati dal passato Mi è successo questo e allora boh 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 E quindi Invece Se riusciamo appunto a liberarci da questo E da queste ossessioni del passato e del futuro Riusciamo effettivamente a godere del quotidiano Riusciamo a godere del sorriso di una persona cara Riusciamo effettivamente a fare un'esperienza più piena E per fare questo hai bisogno effettivamente del giusto cammino Ecco io vorrei chiedere una cosa relativa proprio all'attualità Perché siamo abituati ad avere comunque dei ritmi frenetici E l'importanza di prendersi una pausa dal lavoro Dalla vita quotidiana Di prendersi una pausa con se stessi Anche a livello spirituale Da soli all'interno del proprio comfort Diciamo così Perché i nostri livelli sono effettivamente Ati a fast pace The question is about the importance Of making a pause So creating a space for oneself Within, you know, own comfort You know, making a pause From, you know, from the life And from, you know, on the spiritual meaning of it Definitely the world is moving in a fast pace And the impact of that fast pace Would be pretty much similar to what a fast food does to your body Sì, tutti quanti noi il mondo si muove a un ritmo forzennato E bisogna immaginare che l'effetto che questo ritmo ha su di noi È come l'effetto del fast food sul nostro corpo Inflammation, chronic diseases, heart disease, all inflammatory diseases And finally death Quindi, appunto, dobbiamo immaginare come conseguenze, problemi cardiaci Problemi di salute in generale Associati appunto all'ingestione del cibo, del fast food If not for the pause, what happens is An obsessive mind, a sad mind, a depressed mind, a numb mind And all this kind of stunts growth in every aspect of your life Limits the joy that one can experience in life And the impact, positive impact that you can create in the world Quindi, se non fosse per le pause che riusciamo a prendere La mente ossessiva, la mente triste, una mente ottusa essenzialmente Limita l'esperienza che possiamo avere della vita Every civilization in the past had a spiritual component It was a very integral part of life And today, because of the fast paced world And the pursuit of happiness outside Believing something outside is going to create that inner joy We have lost that ability as a civilization And getting back to the roots, immersing in spiritual processes Weaning oneself of the past that is floating in our consciousness That becomes an extremely important journey that everybody must have in life Tutte le civiltà hanno avuto una componente spirituale di qualche tipo Ma poiché la nostra civiltà vive in un ritmo tanto intenso E poiché la nostra ricerca della felicità è sempre associata a qualcosa che viene dall'esterno Noi abbiamo un po' perso questa abilità, diciamo, spirituale, chiamiamola così E quindi, invece, ritrovarla e tornare alle radici di tutte le civiltà Quindi, riabituarci a una spiritualità è quello che renderà le nostre vite più intense Ecco, io vorrei, prima di concludere la nostra chiacchierata E appunto anche vedere quello che porterà poi all'evento di domani Diciamo che il mondo occidentale, ma l'uomo in sé, ha un rapporto conflittuale con la sofferenza Invece bisogna, diciamo, anche capirla Viverla Viverla E attribuire un significato, no? No So, everybody in this world has a conflicting relationship with suffering We all tend to, you know, move it away Instead, maybe we have to really experience the suffering And who knows, maybe give it a meaning Suffering does not, you do not experience freedom from suffering by trying to escape It just becomes a bigger monster growing in your consciousness Nor do you escape suffering by giving a different meaning That also doesn't work You need to tune your mind, your body and your consciousness In order to observe your suffering You need to tune the entire ecosystem of you Rather than trying to push it away Rather than trying to run away from it Or rather than trying to give it a philosophical ideology You need to learn to build a mind that can observe suffering That is where meditation comes into place If you have the right meditation practices The purpose of meditation is that you are able to navigate your mind towards observing that suffering And experiencing freedom from that suffering Liberarsi dalla sofferenza non si ottiene fuggendo dalla sofferenza E neanche cercando di dargli un significato diverso Anzi, bisogna avere una mente che è capace di osservare la sofferenza per quello che è E invece che cercare di allontanarla Invece che cercare di dargli un significato filosofico Un'ideologia di qualche tipo Bisogna cercare di coltivare una mente che sia appunto capace di fare esperienza totale della sofferenza Ed è in questo contesto che viene utile la meditazione La meditazione ha effettivamente come scopo proprio quello di allenare, diciamo, la mente all'osservazione Ecco, appunto per concludere questa nostra chiacchierata chiediamo appunto a Shepetagi di far vivere ai nostri telespettatori una piccola parte di quello che vedremo nella giornata di domani in questi ultimi cinque minuti della nostra chiacchierata So, before concluding, would you like to, you know, a live experience of, you know, a small meditation maybe That can, you know, give the audience, the public, you know, an idea, a glimpse of what it could be I believe there are young people looking at this And everybody is struggling with, you know, either anger or fear or sadness I would say everybody should learn to free themselves of that suffering state as and when it arises If you don't know to declutch or disentangle from that suffering state, from that stressful response It will build within you So I will do a meditation, the serene mind practice that will help, it's a 3 minute practice I'm not going to do a long meditation, just a 3 minute practice But they need to learn it, they need to use it whenever they experience an inner discomfort L'idea è che tutti, giovani, ma in realtà proprio tutti, siamo molto spesso schiavi delle emozioni Specie quelle negative, la rabbia o la tristezza, la solitudine o quello che sia Ed è molto importante imparare a liberarsene nel momento esatto in cui queste effettivamente si manifestano E quindi faremo una piccola dimostrazione, una piccola meditazione che dura soltanto 3 minuti E che si chiama meditazione della mente serena E serve proprio per focalizzare sulla propria emozione al fine di liberarsene Prego And this changes the demographic of your brain Ok E questo ha un effetto proprio sulla geografia, diciamo, del nostro cervello Please close your eyes Chiudiamo gli occhi Bring attention to your breath Portiamo attenzione al respiro Inhale and exhale deep and slow Inspira ed espira profondamente e lentamente Deep inhalation And slow and long exhalations Facciamo inspirazioni profonde ed espirazioni lente Ora identifica l'emozione che sta sorgendo dentro di te Is it loneliness, sadness, guilt, irritation È solitudine È solitudine, tristezza, irritazione, senso di colpa Or is it calm, peace, love or joy? Oppure calma, amore, pace, gioiosità Identify the emotion without trying to change Identifica l'emozione senza cercare di cambiarla Riottorio Lorde, che riscze mi parte È solitudine Trefinanza Tornata drop Questa Trich Questa Questa Guarda Questa Mentre questa emozione sta nascendo dentro di te, osserva l'andamento del pensiero, la direzione del pensiero. Stai tornando indietro a un'esperienza passata? Oppure a una futura? Oppure sei nel presente, il momento presente? Grazie a tutti. Ora vedi una lucetta in mezzo alla fronte. Vedi, la sentila oppure pensala. Ora vedi questa luce che si sposta fino al centro del cervello. Vedi questa luce che risplende in mezzo al cervello. Vedi un respiro profondo. E lentamente puoi aprire gli occhi. Puoi fare questa meditazione più volte nella giornata e ogni volta che senti qualche forma di emozione. Noi ti ringraziamo. Grazie. No, di confusione. Però di benessere. Esatto, è importante, come diceva la nostra ospite, farlo magari ogni giorno in quei momenti dove troviamo maggiore pressione, no? Dalla quotidianità e da quello che ci arriva, dal lavoro, dalle persone che abbiamo vicino, anche nei momenti più difficili. Noi chiudiamo così la nostra puntata. Noi domani abbiamo accettato l'invito. Saremo vostri ospiti. Grazie. Davvero. Un onore. Un piacere. Grazie. It's been a great pleasure and a great honor to have you here. And tomorrow they will also come and join us for the event. Would love to see you there. Thank you. Allora noi chiudiamo così la puntata di quest'oggi di La Chiaman Estate. Ora chiaramente spazio alla cultura anche per la nostra mente con A Libro Aperto e noi torniamo dopo per i saluti. Grazie.